Le sue condizioni erano subito apparse gravissime. Dopo 24 ore in rianimazione al San Martino non ce l'ha fatta Marco Ricci, l'opraio 39enne che ieri pomeriggio è caduto da un'altezza di oltre 10 metri. Stava lavorando al cantiere per la costruzione della nuova ludoteca, parte del futuro parco del ponte sotto il viadotto San Giorgio, accanto al memoriale per le vittime del crollo del Morandi. Ricci era dipendente della Life, una ditta metalmeccanica di Sansepolcro in provincia di Arezzo. Era arrivato a Genova lunedì scorso per eseguire alcuni lavori di carpenteria all'interno dell'ex palazzina Amiu. Doveva sistemare alcune griglie accanto al vano del futuro ascensore, mentre ne stava trasportando una insieme a un collega, secondo quanto ricostruito da investigatori e ispettori dell'ASL, avrebbe messo il piede su una delle tavole in legno utilizzate per coprire il varco. Tavole che non sarebbero state fissate ma a mancare sarebbero state anche le necessarie protezioni laterali. Indagano i PM Giuseppe Longo e l'ha giunto Francesco Pinto. Anche questa mattina hanno sentito alcuni testimoni. Il cantiere è stato posto sotto sequestro, il fascicolo è contro i gnoti, l'accusa omicidio colposo. Gli inquirenti hanno acquisito tutta la documentazione per ricostruire la catena di appalto e subappalti. I lavori erano stati aggiudicati dal comune di Genova, una ditta che poi ha subappaltato ad altre due aziende gemelle. Proprio per garantire più sicurezza nel settore edile e regolare la giungla e dei subappalti, dal 1 ottobre è entrata in vigore la patente a punti per le ditte, quasi 30.000 a quelle interessate in Liguria. Un incidente sul lavoro è sempre frutto di un sistema che non funziona, denuncia la Will. Per il segretario regionale della CISL, Luca Maestripieri, la catena di appalti e subappalti è il primo pericolo per la sicurezza dei lavoratori. Il tempo dei discorsi è finito, rimarca la CGL. Chiederemo al comune di verificare l'applicazione dell'accordo sicurezza siglato coi sindacati.